E allora siamo pronti per questo match per la categoria dei 73 kg ad affrontarsi su questo quadrato dalla Francia Farad Assad lo invitiamo ad entrare, 19 anni, ripeto lui è francese un metro e 78 al peso, più al dentro 72,900 al peso con un record attenzionale da BWS una scoprita su un incontro puntato all'angolo blu vi presentiamo Farad Assad e allora la volta del pugile di casa dal Brasile 28 anni un metro e 76 la sua altezza 72,700 kg il peso noi invitiamo a salire sulla ring Pedro Lima Eccolo qui all'angolo rosso per i Dolce Cabana Milano Thunder Pedro Lima Eccolo! Grazie a tutti. 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 Buono. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono. 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 Grazie. Questa è l'ultima. Questa è l'ultima. Questa è l'ultima. Ora tu hai gannato all'incontro. Non solo al gancho, ma anche alla direzza. Direzza e sinistra. Muove. Gioca. Ok? Questa è l'ultima. La quinta è l'ultima ripresa. Per lo stesso ring, la quinta è l'ultima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.